Salome a tutti, siamo nel capitolo 42 di Tanya l'atterebbe aver parlato precedentemente del concetto del Da'at il Da'at è la conoscenza, la percezione nella divinità questo è quello che fa nascere l'amore e il timore per Dio questa qualità di Da'at di alimentare la nostra fede deriva proprio da Moshe Rabbeinu l'atterebbe ha spiegato che l'anima di Moshe esiste in ogni generazione che si investe nei saggi della generazione e ogni ebreo ha una scintilla di questa anima e dunque l'atterebbe continua dicendo questa forza di connettere con un legame forte la tua mente a Dio cioè ogni anima di Israele ha questa forza che deriva da Moshe Rabbeinu dall'anima di Moshe Rabbeinu di Benetta e Moria il problema è che la nostra anima contiene questa scintilla dell'anima di Moshe Rabbeinu però essendo la nostra anima investita in un corpo materiale fisico grossolano ha bisogno di una grande fatica è un grande sforzo doppio quadruplo per tirarlo fuori a galla la prima fatica è di schiacciare, annullare, sottomettere il corpo che non nascondi la luce dell'alma divina come abbiamo detto precedentemente citato dallo Zohar lo Zohar dice è un pezzo di legno che non si accende perché è troppo grosso cosa si fa? lo si spacca pezzetti più piccoli stessa cosa un corpo che non si appiccica il fuoco della luce divina dell'amore per Dio cosa deve fare? mi faccio le lo si rompe tramite meditazione di teshuva avere il cuore rotto con pensieri di teshuva di pentimento da profondare il cuore come spiegato lì